La cerimonia è stata ufficiata da Don Giuseppe Carmelo nella parrocchia di Santa Lucia a Mare. Sono rimasto impressionante da qualche cosa. La prima che un giovane così bello ha non viveva più. Oggi sta in un grande oceano, l'oceano immenso, sconfinato dell'amore di Dio. Successivamente la salma del ragazzo, uscita fra gli applausi dei moltissimi presenti, è stata trasportata su un traghetto che la porterà a Procida, nel cui cimitero, su richiesta della famiglia, verrà sepolto Vincenzo. Numerosissimi messaggi di cordoglio e condivisione di dolore giunti da tutta Italia. Intanto si rende nota una decisione della Federazione Italiana Nuoto. Tutte le manifestazioni di nuoto e pallannuoto che si svolgeranno nel weekend in Campania saranno precedute da un minuto di silenzio in onore del ragazzo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!